Eccoci in diretta, buongiorno a tutti, anche oggi questa mattina avremo due ore di formazione in qualche modo per confrontarci come sempre su temi che cerchiamo sempre di proporre, avere anche da voi un feedback, infatti potete fare delle domande, delle riflessioni su questa chat che in qualche modo state già utilizzando, augurandoci un buongiorno. Buongiorno a tutti, ovviamente. 330 progettisti per ora collegati, quindi comunque il numero sta aumentando, questi minuti infatti vengono anche utilizzati per permettere a tutti l'accesso. Vi ricordo che per architetti e ingegneri ci sono due crediti formativi, l'importante però è quello di essere collegati, connessi a questo portale, non navigate esternamente, non inviate insomma email, perché questa a volte purtroppo incide nell'ottenimento dei crediti, quindi state connessi, collegati su questo portale, non serve nient'altro, quindi basta soltanto seguirci per un paio d'ore. Prima di iniziare però con tema della giornata, il webinar, rappresentazione degli ospiti, la sigla che dà il via al webinar. Sono ovviamente anche termini sostenibilità, formazione, che cerchiamo un po' anche di approfondire spesso durante questi webinar. E allora diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, perché parleremo dell'evoluzione della distribuzione elettrica. Ovviamente attraverso un po' anche la voce di Hobo Betterman salutiamo Francesco Fiore e Marco Lovettere, benvenuti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, che si alterneranno in qualche modo per raccontarci anche l'architetto Paolo Panetto. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno Paolo, che avrà l'occasione nella seconda parte anche di raccontarci un po' di temi e di progetti legati ovviamente al suo studio. Tu Paolo da dove ci chiami, da dove sei collegato? Da Treviso, lo studio a siedi a Treviso, ci occupiamo di architettura e di interni, vi parlerò di questo, dei nostri progetti. Allora, per ora in qualche modo ti concediamo, perché appunto nella prima ora la trascorreremo insieme agli amici di Hobo Betterman, ci vediamo più tardi Paolo, quindi in qualche modo abbiamo dato anche un luogo fisico ai nostri ospiti, ai visi comunque che state osservando. Voi invece, Francesco e Marco, da dove siete collegati? Siamo collegati da Rivoli, dove è presente la sede di Hobo Betterman in Italia e ci alterneremo, io presenterò un attimino l'azienda, che cos'è la nostra realtà, poi Marco entrerà nelle soluzioni tecniche che possono essere utili per la realizzazione della distribuzione elettrica e poi chiuderemo con un piccolo riferimento normativo su quelle che sono le normative vigenti per la realizzazione di questi materiali. Perfetto, perfetto. Io direi, allora, di cominciare ad entrare nell'argomento, perché ovviamente i temi sono tanti, io vi ricordo a voi progettisti collegati di fare domande insomma relative a tutto ciò che ascolterete, quindi l'occasione anche per avere un dibattito su questi temi. Quindi direi con Francesco di entrare subito nel vivo con la presentazione, che puoi anche mettere a tutto schermo, perché ovviamente avremo l'occasione anche di vedere le slide che in qualche modo riassumono i concetti che ci cercherà di trasmettere Francesco. L'occasione, ripeto, a tutti i progettisti è quello di stare collegati con noi per due ore, questa è la mia unica raccomandazione, lo dico anche a chi si sta collegando adesso. L'evoluzione della distribuzione elettrica, ci siamo. Ok, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Francesco Fiore, sono area manager per Robo Bettermann, che è un'azienda multinazionale tedesca presente sul mercato elettrico da circa 110 anni. A conduzione familiare, ovvero la proprietà è una famiglia che conduce ormai da quattro generazioni l'azienda. L'azienda è presente in più di 60 paesi, 4 mila collaboratori, progetta, produce e commercializza oltre 40 mila item, quindi referenze per la realizzazione degli impianti nell'ambito industriale, terziario e civile. La proposta di Robo Bettermann è articolata in una raccolta di cataloghi tematici in cui è possibile trovare soluzioni all'avanguardia per ogni area di competenza. Ve li presento velocemente. Il WBS, sistema di cablaggio e fissaggio. Sono molteplici soluzioni per il cablaggio e il fissaggio degli impianti, quindi materiali di uso quotidiano dell'installatore a partire dalle scatole di derivazione, i tubi, i profilati e tutti quegli accessori che servono a realizzare gli impianti elettrici esterni. Il catalogo TBS che costituisce una guida per la realizzazione di impianti di protezione da fulminazioni e da sovratensioni. Qui si trova tutto il materiale per realizzare il parafumie, il cosiddetto LPS esterno. Una gamma vastissima di SPD, quindi di protezioni da sovratensioni per qualsiasi genere di segnale e per le linee di energia. E poi tutto il materiale per realizzare gli impianti di terra e gli impianti di equipotenzializzazione. Arriviamo poi al catalogo KTS che per Obo Bettermann significa core business. È una gamma completa di canalizzazioni metalliche e portacavi nelle più svariate forme, dalla canalizzazione leggera, quindi la passerella a filo, fino a canalizzazioni più pesante per impianti molto pesanti. Passando poi dalle applicazioni navali alle applicazioni di bordo macchina per l'automazione industriale. Corredando poi tutta la gamma di quegli accessori che occorrono per il fissaggio delle canalizzazioni. Quindi una gamma veramente completa che contraddistingue il nostro marchio in Europa. Infatti Obo Bettermann è uno dei produttori più importanti a livello europeo in questo ambito. L'offerta Obo poi annoverà anche un catalogo dedicato alla protezione passiva dall'incendio. Qui troviamo invece tutto quello che serve per realizzare la compartimentazione rei degli ambienti, per garantire la protezione delle vie di fuga e tutto quello che è il mondo del mantenimento funzionale, ovvero quello che serve per garantire la funzionalità del sistema elettrico anche in caso di incendio. Abbiamo poi un catalogo dedicato alle canalizzazioni plastiche metalliche e colonne per realizzare gli impianti di distribuzione elettrica all'interno di edifici dedicati al terziario. Un catalogo che va a completare la gamma di cui sopra, che è quello dedicato alle prese, tutti i dispositivi di comando e accessori anche un po' particolari per la distribuzione elettrica anche in ambito industriale. E in ultimo, ma non meno importante, il catalogo dei sistemi sottopavimento, che è un catalogo in cui troviamo canalizzazioni metalliche e torrette scomparsa appunto per la distribuzione sottopavimento. Per quanto riguarda questo catalogo, Obo Betama si avvale dell'esperienza maturata in oltre 60 anni di attività dell'azienda Ackerman, che da qualche anno è ormai stata assorbita dalla Obo Betama e fa parte della nostra famiglia. Quindi tanta esperienza a servizio di voi progettisti per la realizzazione della distribuzione sottopavimento. Parliamo appunto di distribuzione elettrica. Oggi gli impianti tecnologici all'interno di un edificio costituiscono un po' il cuore pulsante che serve a garantire affidabilità e benessere alle persone che occupano gli spazi all'interno dell'edificio. È chiaro che però per arrivare alle singole utenze è necessario instaurare un sistema di distribuzione che garantisca appunto di arrivare alle singole utenze per fornire tutto quello che è il servizio necessario a fruire appunto degli spazi presenti all'interno dell'edificio. Oggi soluzioni sempre più evolute ci permettono di regolare la temperatura, l'illuminamento, controllare e gestire i consumi, connetterci al di fuori dei nostri spazi al mondo. Per assicurare però questa efficace capillarità è necessario distribuire questi impianti e l'impegno di voi professionisti sempre di più diventa quello di coniugare queste esigenze con le esigenze estetiche perché uno degli obiettivi soprattutto di voi architetti, mi rivolgo soprattutto a voi, è quella di rendere funzionale lo spazio che viene occupato dagli utenti ma altrettanto accogliente e che, lasciatevelo dire, l'occhio vuole la sua parte, quindi l'aspetto estetico è un aspetto fondamentale. Ed è proprio qui che arriviamo noi della Robo Betterman con delle soluzioni che vi permetteranno di raggiungere l'utenza finale in maniera discreta ed elegante e trovare la soluzione più adatta a quella che è l'esigenza del momento per una distribuzione che può essere a pavimento oppure da soffitto o ancora da parete. Ora passo la parola al collega Marco che entrerà nello specifico di queste soluzioni proponendovi dei validi sistemi per realizzare la distribuzione all'interno degli edifici e dopodiché ci rivediamo per un piccolo escursor normativo. Buongiorno a tutti, andando a riprendere quelli che sono gli elementi quindi tridimensionali che appena è vinto il mio collega Francesco, andremo a evidenziare alcune soluzioni tecniche certificabili, quindi diciamo rispetto all'impianto che tra volte sono fatte in modo casereccio, soluzioni certificate, quindi conformi alla normativa vigente che poi andranno a affrontare nell'ultima parte del seminario, che vi permetteranno di distribuire l'impianto elettrico. Partendo quindi dal primo elemento, l'elemento del pavimento, andremo a discernere quella che le sono le due tipologie di distribuzione. Chiaramente non tutte le distribuzioni sono fatte in stesso modo, proprio perché materialmente sono costruite in modo completamente diverso, quindi le prime, quelle utilizzate diciamo per la maggiore, sono quelle per le azioni di pavimento in massetto, ossia l'implementazione all'interno di questa distribuzione dove viene distribuito l'impianto idraulico, c'è anche la parte elettrica e in questo caso andremo ad approfondire quali sono le soluzioni mariegate che sono presenti all'interno del nostro catalogo. Il catalogo in questo caso è il catalogo UFS, quindi l'ultimo in fase d'ordine, ma è il primo che andremo a affrontare, proprio perché è quello dedicato a distribuzione sotto pavimento. Un'altra tipologia di distribuzione possibile all'interno di piante elettrici sono i cosiddetti pavimenti sopraelevati, pavimenti flottanti o quindi quelli che vanno a abbruggiarsi sopra la pavimentazione esistente e poi attraverso quella distribuzione, anche lì rispetto comunque non meno importante da un punto di vista estetico, quindi di funzionalità, quindi occorre anche in questo caso andare a combinare rispetto a quello che è solito utilizzare l'impiantista elettrico, ossia la torata in plastica, con dei sistemi che permettono la versatilità, la fruibilità, la calpestabilità e anche eventualmente il grado di protezione, quindi i vari trattamenti della pavimentazione. Quindi andando a scegliere, quindi di iniziare la prima soluzione, è una soluzione abbastanza poco conosciuta nel mercato, perché praticamente immaginate il classico canale che a volte viene utilizzato per la distribuzione elettrica, però a soffitto, a vista, quindi la passarella filo, la passarella grigliata o chiusa. Diversamente questo qui è un canale che permette la distribuzione sotto pavimento in massetto, quindi rispetto alla tubazione classica è un sistema completamente diverso. Questi candotti si chiamano condotti aperto, OCA, che permettono la facilità e la fruibilità dell'utente nel corso della sua vita. Come vedete ci sono due possibilità di soluzione. La prima è un canale denominato KG, che permette la distribuzione a partire da un'altezza di massetto di 40 mm, quindi un'altezza veramente ridotta, fino ad arrivare ad un range massimo di regolazione di 240 mm. non è una cosa scontata il dire, nel senso, utilizziamo un canale sotto pavimento, ma questo canale sotto pavimento ci permetterà nel tempo di essere completamente fruibile, ispezionabile e di raggiungere quella distribuzione che in passato, con le tubazioni di tipo corrugato, è di difficile soluzione. Un altro prodotto disponibile è il canale OCA-WV. La differenza tra i due consta nel fatto che il canale OCA-G ha delle pareti laterali flessibili che permettono comunque l'installazione in massetto e tramite una lettera telare che il materiale e il calciostruzzo non entri all'interno del canale stesso, diversamente il canale OCA-WV ha le pareti rigide, quindi oltre alle pareti laterali ha anche un sottovasca completamente chiuso, che quindi permette una chiusura totale della distribuzione, quindi non utilizzare il massetto grezzo, ma utilizzare il fondo vasca del canale WV. Il canale chiaramente non è un elemento fisso, perché noi immaginiamo di avere diverse tipologie di massetto, perché non tutti i massetti sono uguali, quindi di implementare un sistema si versatile, ma anche all'esigenza e quindi all'altezza disponibile. Quindi il fatto che si possa livellare, se andiamo e scordiamo le immagini da sinistra verso destra, permettono la regolazione tramite i pepiglini che vedete nella prima immagine, quindi si vede il cacciavite, di essere regolato perfettamente al filo del massetto, quindi di avere le altezze disponibili che chiaramente dobbiamo garantire in fase di progettazione, il fissaggio, perché comunque non è il sistema che una volta diciamo lo fissato e poi questo sistema si muove, no, tramite questi pepiglini di regolazione possiamo tranquillamente ancorarlo al massetto esistente, posizionarlo lungo tutto eventualmente una dorsale e poi implementarlo con degli accessori per realizzare una T, realizzare una X, insomma quello di cui necessitiamo, scorrendo nelle immagini sotto di levigare, quindi di levigare il pavimento in massetto, quindi portarlo a completamente complanare rispetto a quello del massetto esistente. Una volta realizzato il massetto possiamo tranquillamente inserire all'interno del canale dei conduttori sia di energia che di cablaggio strutturato, chiaramente il sistema può essere corredato di separatori, quindi di separare elettricamente le due distribuzioni che per normativa, a meno che non abbiamo un grado di isolamento del cavo identico, non possono vedere all'interno dello stesso canale, quindi possiamo tranquillamente separarli. Una cosa in cui mi preme informarvi è che questa tipologia di canale, oltre a tutte queste regolazioni, chiaramente un sistema certificato, ma anche una certificazione contro il rumore, quindi noi immaginiamo di avere una dorsale di 40 metri, chiaramente la prima cosa che potrebbe venire in mente, ma se cammino in cima a questo canale, al fondo dello stesso sentirò un riverbero? No, perché il canale è stato attestato contro l'umore, quindi ritornando agli discorsi che facevamo prima, rispetto alle soluzioni caserecce, i sistemi devono essere certificati e i plus, i cui OVO-Betterman vi permette di accedere, oltre a queste sono, quindi ripercorrendo i punti che vediamo nell'ultima immagine a destra, è ideale per non grandi quantitivi di cavi, una semplice installazione, la flessibilità e chiaramente la robustezza del sistema. Il canale chiaramente può essere scelto in base alle esigenze, come vediamo prima l'altezza, ma non meno importante è la larghezza, quindi possiamo scegliere da un range di 200 mm fino ad arrivare ad un massimo di 600 mm. Chiaramente in base all'altezza possiamo scegliere delle varie tipologie di canale, quindi da 40-70 eventualmente, da 60-150, da 100-150 e poi per il canale OCA e G, che ne eravamo prima, possiamo arrivare addirittura fino a 24 cm. E ulteriormente, chiaramente una volta che questo sistema è stato montato, è stato rimestito con la stessa nostra pavimentazione, perché il concetto di OVO è che il sistema deve essere sì fruibile, chiaramente esteticamente valido, ma quasi completamente nascosto, quindi se noi dobbiamo andare a riaccedere a questo tipo di canale, una volta rivestito, possiamo scegliere due tipologie di coperchio, a vite e a scatto. Chiaramente quello a scatto permetterà un'apertura anche del canale, anche con il rivestimento posizionato al di sopra. Diversamente, se scegliamo quella vite e magari posizionato in linoleum, se andiamo chiaramente a chiuderlo, dobbiamo prima rimuovere le viti e poi aprirle. Quindi diciamo, quello consigliato è il canale a scatto. Quindi se andiamo ad affrontare l'installazione elettrica, l'installazione elettrica che va per la maggiore sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'utilizzo classico dell'installatore o magari anche di voi progettisti, è quello di distribuire, quando dovessimo scegliere la soluzione sotto pavimento, una distribuzione con tubazioni corrugate, in diverso diametro e in base alla vostra esigenza. Chiaramente, quando andiamo a realizzare un impianto elettrico con un massetto di tipo basso, l'attubazione del diametro chiaramente si va a ridurre. Questa distribuzione non è flessibile nel tempo in base alle mutazioni delle postazioni di lavoro, ossia se oggi abbiamo un punto di postazione lungo la dorsale e inseriamo un punto di prelievo elettrico in quel determinato luogo in cui abbiamo scelto, chiaramente avendo solo quel punto di installazione elettrica, difficilmente potremo accederci o spostarlo di un paio di metri e quindi l'accesso futuro alla distribuzione è pressoché impossibile, se non farlo con dei cavi magari di distribuzione o addirittura delle ciabatte, chiaramente non sono certificate e quindi la distribuzione con il canale OCA, quindi per la distribuzione elettrica di domani, ci permetterà di avere, oltre ai plassi che vediamo prima, quindi le regolazioni da 4 cm che è un massetto veramente basso, quindi noi immaginiamo distribuire una tubazione con un diametro di 20 mm e al di sopra mettiamo un tubo, chiaramente il massetto, la distribuzione elettrica può essere solo realizzata nei 20 mm. Diversamente se andiamo a scegliere il canale OCA avremo disponibile come sezione utile tutta l'altezza, quindi 40 mm, chiaramente meno lo spessore del coperchio, quindi notevolmente diverso la distribuzione elettrica e la sezione utile a questa, quindi andiamo ad aumentare sensibilmente quello che è la sezione interna, chiaramente la flessibilità, quindi la scelta nel tempo di poter spostare le nostre apparecchiature o alimentazioni elettriche è chiaramente un sistema come dicevamo anche prima, completamente ispezionabile, pedonabile, quindi parliamo di 300 kg, quindi non un sistema a cui deve essere dedicata, tra virgolette, una certa cura, perché possiamo tranquillamente camminarci sopra, posizionare al di sopra una scrivania, quindi è un sistema veramente dal punto di vista estetico funzionale imparagonabile sul mercato. Ora andremo a vedere un video di installazione, pochi secondi e partirai. Ecco, questo è uno dei tanti video presenti sul nostro canale YouTube, canale YouTube che vi porterà a essere utile nelle varie installazioni elettriche, quindi nei vari progetti e anche nella comprensione del sistema di cui stiamo parlando. In questo caso del canale OCA, vedete, questo è il canale OCAG, nelle sue dimensioni, da 200 a 600, che sono le identiche del canale OCAG, quindi con le pareti completamente chiusi. la regolazione, l'implementazione anche, quindi l'attraversamento di altri impianti, all'interno dello stesso. Diversamente questo è il canale con le pareti e la vasca completamente chiuse, che è quello che poi ci vedrà nel video attuale. Come vedete, il sistema permette, come dicevo prima, un enorme quantitativo di cavi rispetto all'autobazione corrugata. Il canale viene fornito in bergera a 2,40 m, con coperchi ispezionabili di 800 mm, quindi non dobbiamo alzare, diciamo, un coperchio di notevole peso e lunghezza, ma bensì possiamo accedere alla distribuzione elettrica con coperchi decisamente più agevoli. Chiaramente il sistema, attraverso questi PD e regolazioni, che sono facilmente innestabili in questo profilo di alluminio estruso e quindi appoggiabili alla pavimentazione, una volta, diciamo, chiuso, una cosa importante, garantiamo tramite questo accessorio il collegamento di elettrico delle elementi, quindi il ponticello classico che va fatto in un'installazione elettrica per garantire comunque la continuità di elettrica e la successiva messa a terra dell'impianto è garantito tramite questo accessorio. Attraverso i vari pedini posizionabili in tutta la lunghezza, possiamo andare anche a regolare quelle piccole diversità che eventualmente possiamo presentare nel massato grezzo, quindi andare a portare la naturalità completamente a zero, quindi in bolla, rispetto alla pavimentazione. Chiaramente il sistema, una volta regolato, va rimosso, diciamo, la parte superiore, che andrà comunque coperta e quindi non sarà visibile alla pavimentazione esistente. Tramite degli accessori è possibile andare a sezionare il canale e innestarlo con una dimensione di pari dimensione, quindi sezione utile all'interno, o eventualmente con un canale più piccolo. Anche qui gli accessori permettono la continuità di elettrica per trovare gli elementi. Tramite altri accessori è possibile realizzare curve a 90, a destra o a sinistra. Tramite questo accessore, come vedete, questa qui è la famosa retina che si vedeva anche nel canale OKG, che permette l'annegamento del canale stesso all'interno del massetto e di evitare che all'interno dello stesso entri del materiale. O, eventualmente, andare a realizzare una testata di chiusura. ulteriormente andiamo a rafforzare quello che è la gettata per il massetto tramite quegli ancoraggi. Andiamo eventualmente a coprire il canale stesso, comunque facciamo attenzione che all'interno del... al di sopra dello stesso non venga, diciamo, inserito del materiale perché chiaramente dovremmo andare a rimuovere e in quel caso potrebbe esserci anche andare maggiormente nel canale stesso. Andiamo a litigare quello del massetto e in questo momento abbiamo realizzato, diciamo, la prima fase. Successivamente potremmo andare a realizzare i collegamenti potenziali, o almeno un collegamento potenziale dell'elemento stesso, inserire un setto separatore tramite delle ganci rapidi, inserire all'interno della canalizzazione o con degli elementi esterni all'interno del canale stesso, con delle torrette scomparsa. In questa fase andremo a vedere quello che è il rivestimento del canale stesso, che chiaramente può essere completamente chiuso, è accessibile tramite o delle uscite a cavo o delle torrette scomparsa, o eventualmente utilizzando quel profilo inserito all'interno del canale andare a girare di 180 gradi e quindi avere una sorta di delimitazione del canale stesso. E in questo caso abbiamo realizzato la nostra distribuzione con il canale OCA, completamente ispezionabile. Chiaramente possiamo andare a inserire all'interno stesso anche delle pavimentazioni ingressi in marmo o quant'altro. Quindi in base alla tipologia di pavimentazione, quindi qua andiamo più sull'estetica e possiamo andare a tranquillamente implementarlo. O con qualsiasi tipologie di vasca e con altri tipologi di soluzione. Quindi come vedete l'aspetto estetico ma anche funzionale è veramente notevole. Oltretutto avremo solo, come chiaramente l'elettorità scomparsa, un filo cornice. Solamente quella è la bomba possiamo eventualmente dare anche una protezione IP al sistema. Nel momento in cui ci dovremmo affrontare degli attraversamenti che necessitano della compartimentazione RAI, possiamo andare a completare l'installazione elettrica con quello che è il catalogo BSS, ossia con delle schiume, dei sacchetti o quello a cui siete abituati. O eventualmente con delle soluzioni innovative che abbiamo anche a catalogo. Ecco, adesso torniamo alla presentazione. Un secondo solo. Ecco, adesso dovrebbe essere tornata alla presentazione. Adesso andremo a vedere un'altra tipologia sempre di canale annegato nel massetto, le cui peculiarità sono identiche quelle del canale OCA, quindi l'implementazione nel tempo, la complementità rispetto al massetto, l'aspetto estetico, ma diversamente rispetto al canale OCA, l'OKB, è costante il sito per la sua duttilità qualora dovessimo andare a realizzare la distribuzione verso una parete vetrata, verso una parete affrescata o dove magari non vogliamo avere a vista la distribuzione elettrica, quindi le classiche prese posizionate a parete e quindi anche lì dal punto di vista estetico ma anche funzionale, perché immaginiamo sempre l'implementazione delle utenze di lavoro o la duttilità rispetto all'impianto statico ad uno versatile, quindi il canale stesso può essere implementato nel corso della sua installazione, quindi nel tempo, con diverse tipologie di prese, sempre dal punto di vista elettrico, multimediali o anche di cablaggio strutturato. Adesso qua vedete la sezione del canale stesso, come vedete è posizionato verso la parete. Il canale OCAB è contrastito da caratteristiche, ossia gli elementi rettilinei che sono con coperche apribili di 273 mm, un'altezza minima utile di 85 mm, quindi dobbiamo avere a meno la distribuzione a massetto che abbia questa dimensione, perché sono chiaramente rispetto al canale OCAB un'altezza decisamente superiore, questo perché l'installazione delle prese, come vedremo poi dopo, avverrà in verticale all'interno del canale stesso. Chiaramente il canale è dotato di una spazzola, come vedete nell'immagine in basso a destra, ossia posizionando questo canale, chiaramente se è completamente cieco non potremmo ispezionarlo. Diversamente, avendo a disposizione una spazzola che ci garantirà la protezione IP40, quindi che non entra all'interno stesso della polvere, ma anche la possibilità di riaprirlo lungo tutta la sua installazione, chiaramente dove è dotato di spazzola, e quindi una volta completata l'installazione elettrica, di vedere solo dal punto di vista estetico un cavo che uscirà verso la nostra lampada, verso l'utenza elettrica, verso quello che è di cui abbia necessità di avere una limitazione elettrica o multimediale. Chiaramente quando andiamo a realizzare degli angoli interni ed esterni, possiamo completare e quindi continuare l'installazione elettrica, avendo questa peculiarità di avere la spazzola che continui anche dove ci sono queste tipologie di curve, quindi interne ed esterne, eventualmente possiamo integrare con accessori quali l'attraversamento di muri, o eventualmente completare il canale, dovessimo avere l'attraversamento di una porta, quindi in quel caso la spazzola potrebbe essere un inciampo, possiamo completare con la stessa dimensione, con un canale completamente cieco. Chiaramente questo sistema si sposa perfettamente per la pavimentazione in massetto, quindi integrato nella pavimentazione, una versatilità di installazione e come dicevo prima l'installabilità, qualora avessimo delle pareti vetrate, quindi non possiamo posizionare in quel punto o tramite tasselli una scatola 503 per esempio, in questo caso con il canale OPPAB è possibile installazione elettrica dove prima non era possibile, o immaginate una parete a frascati, quindi un ambiente di tipo museale in cui dobbiamo preservare sia dal punto di vista della pavimentazione ma anche delle pareti, non possiamo quindi andare a intaccare quelle che sono le pareti esistenti, in questo caso come in applicazione che andremo a vedere poi dopo è possibile, quindi possiamo preservare dal punto di vista architettonico, quindi dal punto di vista estetico le pareti e le pavimentazioni. Come vedete in questo caso in cui abbiamo una parete vetrata andiamo completamente a posizionare lungo la parete vetrata il canale stesso, chiaramente quella c'è storia che dicevo prima, quindi la curva interna ed esterna, implementare eventualmente anche con delle tubazioni corrugate e andiamo a integrare completamente con il pavimento in massetto. Chiaramente una volta completata la pavimentazione, quindi la scelta anche qui della pavimentazione che può essere del Gress, abbiamo realizzato anche con dei marmi di tipo veneziano, degli englomerati, con qualsiasi tipologia di pavimentazione, la completa rivestimento del sistema stesso. Come vedete nell'immagine in basso a destra, quello che rimane completamente a vista sarà la spazzola che correrà lungo la parete vetrata o la parete affrescata e il cavo stesso. Quindi dal punto di vista estetico alta performance e anche dal punto di vista elettrico la completa installazione lungo questo canale stesso, che anche qui il canale stesso è chiaramente possibile dividere all'interno tramite un certo separatore performato, quindi è stabile sempre direttamente sul fondo della vasca e quindi integrazione, come dicevamo prima, dell'istribuzione elettrica insieme a quella multimediale e quella del dati. Quindi anche dovessimo andare a realizzare una villa e quindi immaginate solo le prese elettriche che ci sono dietro una tv. Per Sky, i decoder, la tv stessa, in questo caso dal punto di vista estetico e funzionale è un sistema completamente performante. Alcune referenze. Abbiamo realizzato, se tanti di voi sarà capitato di andare a vedere anche se lo sforzesco di Milano e la pietra di Rondanini. In quel caso, tramite la committenza, si è scelto di utilizzare il canale OCA-KB, che è posizionato lungo tutte le pareti esterne e poi in centro della stanza abbiamo installato anche delle torrette scomparse, che andremo a vedere poi dopo. Un progetto che è un walk in progress, è il Palazzo Puccioli a Ravenna, dove sarà realizzato il Museo Byron, il Museo del Risorgimento. Lì la caratteristica principale cui la committenza ha scelto OBO, e quindi il sistema OCA-KB, è proprio la versatilità dell'installazione elettrica. Perché non sapevo dove andare a posizionare le alimentazioni elettriche, attraverso questo sistema questo sarà possibile. Anche qui andremo a vedere un altro video di installazione del canale OCA-KB. Un secondo solo. Ecco, qui l'accessore che vi iscrivevo brevemente prima, quindi gli elementi rettilinei, i cecchi, le curve interne e i separatori. Chiaramente il canale viene fornito insieme a una protezione adeguata per garantire la sua integrità. All'interno dello stesso ci sarà tutto il necessario per la regolazione, quindi all'altezza del pavimento in massetto desiderata. Anche qui i pignini possono essere scelti con diverse altezze in base alle vostre esigenze. La andiamo a posizionare lungo la parete, affrescata, vetrata, ovviamente dove non vogliamo avere l'elettrosa vista. Andiamo a regolarlo tramite queste viti giroscopiche. Andiamo a posizionare gli elementi rettilinei lungo la sua lunghezza. l'altezza può essere chiaramente tagliata ad hoc se la lunghezza sesta del canale non permette di arrivare fino a filo parete. Come vedete sul fianco sono già presenti dei pretranci per tubazioni elettriche eventualmente che andremo a innestare al canale stesso. Andiamo a fissare al pavimento grezzo il canale per evitare che nel momento in cui andiamo a fare la pavimentazione in massetto questo chiaramente non si muove quindi dal punto di vista estetico poi si vede una discordanza rispetto alla parete. Come vedete i nostri video sono veramente precisi fino al tassello. Questo proprio per permettere a tutti gli interlocutori, sia voi progettisti ma anche gli installatori, di comprendere il sistema e quindi di fare un'installazione ad hoc e quindi dal punto di vista estetico e funzionale non ci siano i mentori possibili. Chiaramente una volta posizionato possiamo anche qui regolare all'altezza e quindi andare a eliminare quelle piccole discordanze rispetto magari alla distribuzione e quindi alla personalità della pavimentazione. Andiamo ad implementarlo attraverso quegli accessori che sono le curve ovviamente le derivazioni a T. Con i coperchi come vedete l'attraversamento a T completamente cieco quindi possiamo tranquillamente attraversare anche una stanza e poi andare magari a rincontrarci nel canale sulla parete opposta. Tramite questo accessorio sarà possibile come nel canale oca la continuità di elettriche tra gli elementi stessi quindi evitare di andare a creare tutti i ponticelli elettrici. Quindi basterà fare un collegamento ecopotenziale per rendere il sistema completamente funzionale e progettualmente adotto. Quindi rispetto alla regola dell'arte. Eventualmente andare a attraversare il muro stesso. Se nel caso fosse un attraversamento ricordiamoci sempre di inserire un sacchetto piuttosto che un mattoncino della stessa equivalente al sacchetto o con delle schiume. Questa sarà la nostra altezza del pavimento in massetto. Anche qui facciamo cura del nostro canale come il canale oca. Quindi andiamo a coprirlo. Andiamo a realizzare quello del massetto. Adesso come vedete tramite queste viti possiamo creare dei battuti rispetto alla pavimentazione interna quindi il rivestimento che tendrà a realizzare non interno del canale e poi l'implementazione della pavimentazione stessa sul canale. Tramite un'ulteriore guida possiamo andare a creare un battuto per la pavimentazione. Qui è l'aspetto finale del nostro canale oca implementabile e dispezionabile di bottura su lunghezza. Chiaramente possiamo andare a posizionare nei punti in cui vogliamo la distribuzione elettrica dati in multimedia tramite questi supporti che vanno a complementare quell'altro catalogo EGS che sono dispositivi elettrici quindi prese elettriche, dati multimediali, HDMI, USB charger. Quindi il catalogo è veramente ampio e vi permette di avere diverse soluzioni in base alle vostre esigenze chiaramente. All'interno del supporto stesso è possibile anche qui separare elettricamente eventualmente come in questo caso la distribuzione elettrica normale e quella privilegiata. e il setto separatore. Quindi come vedete è un sistema completamente versatile e utile in quelle applicazioni che dicevamo prima. Quindi nel momento in cui aveste un progetto di un museo piuttosto che di una villa piuttosto che di una parete vetrata e non sapete come andare a distribuire in questo caso il canale UKB per gol. Adesso ritorniamo alla presentazione. Un secondo solo. Adesso andiamo a vedere quella che è la distribuzione elettrica con i massetti ridotti. Quindi una soluzione unica nel suo genere che alta solo 55 millimetri. Quindi dovessimo trovarci con un massetto veramente ridotto di 55 millimetri questa può essere una soluzione implementabile anche con il canale OCA. Come vedete all'interno dello stesso chiaramente è possibile installare dei dispositivi elettrici è possibile scegliere tra due varianti quindi rotonda e quadrata con il coperchio comunque rivestibile fino ad un massimo di 5 millimetri. Un'altra soluzione tutte in una sono le torrette UdOhm. Torrette UdOhm che anche qui è utile sia per i pavimenti massetti che pavimenti tipo flottante e possono essere diciamo innestabili come vedete sui fianchi laterali con delle tubazioni tipo corrugato. Anche qua le torrette possono essere livellate tramite delle viti giroscopiche posizionate nei quattro angoli e scegliere tra delle diverse soluzioni da quella più piccola che è una nuova versione adesso qua vedrete 125 x 125 ma è disponibile una nuova versione con una dimensione utile di 140 x 140 con eventualmente un grado di P65 in acero inox e in ottone fino ad una dimensione massima di 25 x 25. quindi l'applicazione utile per il pavimento in massetto sopraelevata chiaramente per un vantaggio a filo pavimento e quindi pavimento complenare rispetto alla pavimentazione pavimentazione integrabile all'interno del coperchio stesso regolabile in altezza. Un'altra soluzione utile simile a quella delle cassette UDOM ma la diversità consta nel recesso del coperchio che può essere implementato fino ad un massimo di 25 mm anche qua possiamo scegliere tra soluzioni a quelle più piccole 20 x 20 o rotonde fino ad un massimo di 25 x 25 possiamo scegliere anche qua soluzioni in acero inox o in ottone quindi montaggio sempre a filo pavimento adatti eventualmente per un pavimento lavaggio bagnato con un grado di protezione di P65 e quindi adatta alle molteplici applicazioni quali marmo, pavimento, levigato, resine o quant'altro. Un'altra soluzione utilizzata prevalentemente nei showroom auto è la torretta rotonda GSR2 la cui peculiarità è di essere IP66 e carrabile fino a due tonnellate. Qui non è possibile integrare la pavimentazione all'interno ma è possibile scegliere tra quattro varianti di coperchio in rami, in ottone, in cromo e in nickel con tre diverse tipologie di apertura a cavo o a ribalta, quindi incernirato sul lato o con un tubo telescopico posizionato a due altezze differenti o eventualmente dovessimo andare a realizzare dei centri commerciali con un coperchio cieco ossia è possibile accedere alla distribuzione elettrica tramite solo un personale autorizzato e quindi aiutato della chiave di sicurezza. Anche qua l'applicazione può essere per massetto o pavimentazione sopraelevata. Dovessimo invece andare sulla distribuzione al soffitto quindi la distribuzione elettrica può essere utilizzata solo dal soffitto è possibile scegliere delle colonne o dalla palentazione se dovessimo scegliere colonnine quelle basse qui abbiamo due gamme di prodotti o completamente assenti di quello che è la classica distribuzione elettrica quindi le scatole di derivazioni e le placche quindi è possibile installare all'interno delle colonne stesse le prese quindi integrabili sulla distribuzione che può essere sia da pavimento che da soffitto quindi non andare ad aumentare i costi anche con quelle che sono le scatole o le placche quindi dal punto di vista estetico e anche funzionale avremo una colonna decisamente più slim rispetto allo standard attuale in commercio e quindi anche dal punto di vista economico andare a ridurre quello che è l'impatto rispetto a una distribuzione sia da pavimento che da soffitto con una distribuzione di colonna classica qualora ci dovessimo confrontare invece con un uso di tipo industriale abbiamo a disposizione anche una soluzione di questo tipo ossia una colonna che può essere implementata con un PLC con un monitor con delle prese quindi di tipo industriali eventualmente anche con dell'aria compressa con delle mensule quindi anche con delle protezioni come quelle che vedete in basso a destra di tipo rosso e queste sono le protezioni che permettono di avere anche un grado di protezione contro anche i muletti quindi dal punto di vista funzionale e anche ergonomico perfettamente funzionali alla nostra installazione qualora invece dovessimo andare a scegliere la distribuzione a parete anche qua abbiamo A gamma di prodotto quindi il catalogo LFS quello che avevamo prima la distribuzione con un canale tipo estetico anche funzionale che è il canale grad ossia la distribuzione elettrica non sono completamente a vista ma sarà coperta da questo coperchio che è possibile scegliere con un coperchio denominato swing quindi tipo ondulato un coperchio soft quindi bombato o completamente a spigolo vivo quindi coperchio style dal punto di vista estetico non avremo più le prese a vista possiamo integrare all'interno del canale stesso eventualmente un alimentatore per il pc le prese saranno completamente nascoste eventualmente il canale al di sotto potrà essere integrato con una strip led che non commercializza Obo ma che quindi sarà anche da un punto di vista sia funzionale quindi distributivo a parete ma anche estetico perché integrato con la strip led possiamo utilizzarlo come un effetto ambience quindi con una distribuzione elettrica completamente nascosta e anche dal punto di vista estetico decisamente performante qualora avessimo invece l'esigenza comunque di avere le prese a vista è possibile anche qui scegliere una distribuzione molto slim quindi priva di placche o di supporti prese con un canale tipo plastico e in tipo alluminio ulteriormente abbiamo anche a catalogo due soluzioni in tipo allogen free quindi dal punto di vista sempre del futuro Obo si è portata avanti nel prossimo futuro le plastiche dovranno essere di sempre più prive di allogeni in questo caso la distribuzione elettrica come soluzioni Obo sarà possibile realizzarla comunque oggi quindi se dovessimo trovarci nella distribuzione elettrica magari di un RSA o eventualmente di quelle applicazioni che richiedono questa tipologia di canale sia oggi ma anche nel futuro come per la protezione antibatterica attraverso questo istituto TANIDED che è esterno a Obo sarà possibile utilizzare nell'RSA nei studi medici un canale ad hoc che abbia queste peculiarità ossia i sistemi saranno privi di possibile di germi di batteri perché hanno questa protezione antibatterica posizionata o al di sopra dovessimo scegliere la soluzione in alluminio o eventualmente nell'estrusione del canale stesso in plastica integrata all'interno lo stesso adesso passo la parola a Francesco che riprenderà diciamo un quadro normativo sì prima di parlare di norme mi faceva tanto piacere comunicarvi che oltre a fornire il materiale che vi ho presentato io all'inizio un po' tutta la gamma dei cataloghi che abbiamo a disposizione Marco è entrato nel particolare di quello che era distribuzione a massetto piuttosto che a parete e da soffitto appunto oltre a fornire questo materiale Obo mette a disposizione di due progettisti uno staff di persone competenti esperte che tra l'altro partecipano anche ai commentati tecnici quindi sono informati sull'evoluzione normative che vi possono dare supporto nello studio nella progettazione del sistema di distribuzione e non solo anche per quanto riguarda la realizzazione dei parafulmini che è una materia molto tecnica piuttosto che nella soluzione di compartimentazione re o comunque di protezione passiva dall'incendio siamo a vostra disposizione nel caso in cui appunto avesse necessità di un supporto tecnico da parte nostra per quanto riguarda invece i prodotti che Marco vi ha appena presentato sono tutti rispondenti alle norme di prodotto vigenti in Europa per queste categorie di prodotti esistono due normative una è la 50.085 con le sue varie declinazioni e l'altra è la 6670 le cito entrambe anche se a onor del vero i nostri prodotti sono certificati secondo la prima norma quindi la CEI 085 le cito entrambe semplicemente per il fatto che sul catalogo di qualche concorrente è possibile trovare soprattutto per quanto riguarda le torrette scomparse certificazioni relative a questa normativa la 600-670 e quindi potrebbe sorgere il dubbio non trovando questa norma sui nostri cataloghi che le nostre non siano conformi o non siano comunque state testate in realtà per essere commercializzate appunto vengono effettuati tutti i testi di prova relativi a testi di temperature piuttosto che di carico piuttosto che dichiarazioni di grado di P resistenza a fuoco comportamento alle diverse temperature di magazzionamento temperatura massima e minima di utilizzo quindi vengono testate per garantire la sicurezza dell'utente finale per quanto riguarda invece l'installazione è chiaro che ci si rifà tutti alla 648 che è la norma che prescrive le modalità di impiego di questi materiali sulla norma CEI 648 c'è un capitoletto dedicato proprio alle installazioni delle torrette scomparsa delle colonne e dei canali a parete e con questo diciamo abbiamo concluso la nostra presentazione siamo a vostra completa disposizione per eventuali domande e quesiti che possono essere sorti durante la presentazione intanto vi facciamo ovviamente i complimenti Francesco e Marco per averci guidato un po' in tutte queste soluzioni leggevo appunto che ci erano sono arrivate delle domande che magari ne approfittiamo qualche minuto prima dell'intervento dell'architetto Panetto leggevo che Rinaldo Tonus ci chiedeva in caso di allagamento come è stato studiato il comportamento devono essere previsti degli scarichi nell'installazione a massetto è chiaro che il vanno sottostante che è integrato nel massetto non ha la possibilità di avere degli scarichi per quanto riguarda la pulizia di questi prodotti soprattutto l'OKB che è una feritoia a vista è previsto l'installazione su un pavimento classificato con trattamento a secco ovvero con poco spargimento di liquidi proprio per evitare le problematiche sottoposte dall'architetto invece l'OKA nella sua versione cieca è il P65 quindi può essere tranquillamente trattato e lavato con lavaggio a umido quindi utilizzando anche lo spargimento di liquidi chiaro che quanto qui stiamo parlando di trattamento dei pavimenti quindi delle persone che effettuano la pulizia dei pavimenti il caso accidentale della caduta di un secchio piuttosto che di una quantità d'acqua superiore a quella che è necessaria per la pulizia è un incidente appunto però ripeto essendo integrati nel massetto non è possibile creare delle vie di fuga per l'acqua quindi sarà poi necessario asportare l'acqua con un'altra modalità chiaramente ricordo i 416 progettisti ancora connessi collegati e lo saranno ovviamente anche fino alle 13 che potete fare domande anche più tardi quindi non vi preoccupate nel caso se tra poco diciamo passeremo alla prossima presentazione potete continuare a fare delle domande leggevo di Sergio Tallo non vedo guarnizioni come viene garantita la tenuta idraulica anche qui allora a proposito qual è il materiale non è specificato quindi vediamo se poi effettivamente arriva una precisazione da Sergio ovviamente ci sono domande relative ai costi io direi che comunque per i costi di contattarvi direttamente qui ci sono gli indirizzi mail insomma dei dati riferimenti per eventualmente confrontarvi direttamente è inutile dire anticipiamolo ma è inutile dire che dal punto di vista costi una distribuzione fatta con queste canalizzazioni metalliche che sono in acciaio con i profili a vista in acciaio inox sono completamente differenti rispetto alle classiche modalità di distribuzione che vedi il tubo corrugato tubazioni irigili o tubazioni o canalizzazioni plastiche che sono di comune utilizzo nel mercato italiano è chiaro che questo tipo di soluzioni garantiscono come diceva bene Marco un altro tipo di flessibilità un altro tipo di accessibilità all'impianto anche per manutenzioni future e quindi questo deve entrare a far parte di quello che può essere il costo della soluzione qui parliamo di soluzioni non di prodotto perché comunque è una tipologia di installazione che è completamente differente a quella che fino ad oggi si è adottata nell'impiantistica tradizionale tra le domande più votate avevo visto ecco questo è sempre di Sergio Tallo sono previsti dispositivi automatici di interruzione del canale in caso di incendio con l'aria schiume o altro per evitare la propagazione della fiamma e dei fumi più in generale come si coniuga tale tecnologia con la compartimentazione antincendio allora diciamo che come si vedevano nei video comunque durante la presentazione chiaramente è un elemento di distribuzione quindi qualora questo canale parliamo del canale attraversa una compartimentazione in quel caso deve essere posizionato dove c'è questa tipologia di canale o una schiuma un mattoncino un sacchetto rei che va ad espandersi e quindi andare a sezionare l'elemento fuoco o fumo o calore da un elemento posizionato a sinistra del muro a quella destra e quindi tra una compartimentazione e l'altra e chiaramente il canale stesso è un elemento metallico quindi è fonte naturale di veicolazione del calore quindi se la compartimentazione non è presente non è possibile sezionare tramite degli accessori venuti da OVO se parliamo solo del canale se invece parliamo della compartimentazione antincendio è un altro prodotto quindi l'alimentazione elettrica come per esempio se la distribuzione elettrica prevede non un cavo normale ma un cavo antincendio chiaramente questo è dettato dalla progettazione quindi l'elemento di sezionamento deve essere garantito attraverso altri sistemi rispetto al canale stesso perché quando parliamo di compartimentazione parliamo sostanzialmente di canale perché la torretta è posizionata o da una parte della compartimentazione o dall'altra quindi un elemento fisico unico o a destra o a sinistra di quella compartimentazione che ci vorremmo ci chiede c'è possibilità di condensa in caso di umidità che possa compromettere il materiale dei componenti delle componenti insomma beh in base alla tipologia di prodotto vengono effettuate le prove per la rispondenza ai vari gradi IP è chiaro che in base anche a dove vengono installati i materiali c'è la possibilità di poter gestire questo genere di problemi in particolare la 50085 prevede l'installazione all'interno di edifici poi è vero che uno dice sì ma il grado IP è un grado IP che io installi il materiale all'esterno all'interno di un edificio il grado IP dovrebbe essere sempre lo stesso e da questo punto di vista non possiamo che essere d'accordo però le condizioni al contorno incidono fortemente poi sul mantenimento del grado IP per dirvi bene una Marco vi ha presentato le torrette GSR2 che sono quelle rotonde che garantiscono il P66 è chiaro che se vengono installate all'interno di un edificio e quindi non esposte quelle che possono essere le intemperie e soprattutto le giornate assolate dove magari la temperatura può arrivare al pavimento a oltre i 40 gradi all'interno appunto questo grado IP è facilmente mantenibile nel tempo all'esterno la guarnizione che garantisce questo grado IP è soggetto a usura si secca all'esposizione della luce solare e quindi è necessario mantenerla più spesso per garantire il mantenimento del grado IP ripeto però la 50 085 per a 2 prevede un'installazione all'interno di soluzioni abitative o edifici destinati ad usurficio dove diciamo che una situazione di forte umidità e quindi di creazione di condensa pregiudicherebbe anche la salute delle persone quindi sarebbe più che garantire la funzionalità del sistema bisognerebbe salvaguardare prima di tutto il benessere degli occupanti di quegli spazi però sì effettivamente nel caso in cui fossimo in una situazione particolarmente gravosa è inevitabile che si possa formare della condensa giusto per informazione perché è un caso che si è verificato recentemente sono state utilizzate delle nostre torrette all'esterno su un terrazzo in riva della Godigarda in quella situazione in una situazione estrema non tanto per per la collocazione del materiale perché era comunque in riva al lago su una darsena si sono creati problemi di condensa che non abbiamo potuto risolvere come se fosse una normale installazione all'interno proprio perché le condizioni sono quelle in cui non sono stati attestati i materiali non so se sono stato sufficientemente chiaro e esaustivo nella spiegazione non ti sentiamo non ti sentiamo ora si adesso si perfetto Carlo Laferlita ci chiedeva avete un elenco di produtori rivenditori di zona dove potersi rifornire di questi sistemi Allora i nostri materiali sono reperibili presso tutti i distributori di materiale elettrico essendo però usare questa parola materiale speciale quindi non di comune utilizzo ma utilizzato su progetti su commesse particolari dove dietro c'è comunque una richiesta da parte di un progettista di un architetto sono approvvigionabili in tempo utile presso tutti i distributori ma non lo gestiscono a magazzino tranne in alcune zone d'Italia dove questa tipologia di zone invece più in voga più usuale mi riferisco soprattutto al Trentino Alto Adige dove hanno una modalità di installazione molto vicina a quelle che sono le usanze e le modalità installative tedesche del centro Europa quindi qualche distributore appunto del Trentino Alto Adige gestisce questo materiale anche a magazzino nel resto d'Italia abbiamo noi a disposizione qua a Torino il materiale e quindi riusciamo ad approvvigionare in tempo utile in tutta Italia sì allora sono arrivate altre domande c'è l'architetto Panetto che diciamo sta aspettando per fare l'intervento ne facciamo soltanto una come sono classificati ai fini antincendio i canali da un punto di vista di reazione al fuoco sono previste limitazioni nel numero di cadi per limitare il carico di incendio all'interno dei canali no chiaramente come tutte le distribuzioni necessitano come dicevo prima dei compartimentazioni realizzate attraverso altro tipo di materiale eventualmente il cavo antincendio e quindi l'elemento stesso di canale non è fonte di incendio quindi fumo e calore quindi da punto di vista se chiamiamo così più di pratiche prevenzioni di incendio quel canale non va a rovinare quello che può essere la distribuzione elettrica confacente eventualmente al dpr 151 che è quello che fa riferimento alle norme che poi vanno a discriminare quelle che sono le varie attività previste dall'antincendio quindi è completamente versatile e confacente alla normativa che comunque si rifà come diceva Francesco prima alle 648 il canale va gestito dal punto di vista della protezione antincendio come le usuali canalizzazioni metalliche ovvero dove è necessario andare a ripristinare la compartimentazione bisogna utilizzare materiali di ripristino dove invece bisogna prevenire la propagazione dell'incendio o si utilizzano cavi dedicati a questo tipo di applicazione oppure comunque si devono fare gli stessi calcoli che verrebbero effettuati per il riempimento delle canalizzazioni a parete chiuse chiaramente perché qua parliamo di un canale completamente chiuso perfetto allora io vi ringrazio per ora per questo momento anche di dibattito andiamo con voi più tardi se siete disponibili perfetto grazie ancora Francesco Fiore Marco Lobettere di Iobo Betterman con cui ci rivedremo insomma più tardi adesso ci raggiunge sul parco virtuale l'architetto Paolo Panetto per questa seconda fase magari ne approfittiamo con la regia di mandare un sondaggio lo trovate sempre in alto in alto a destra del vostro schermo a fianco a domande è fondamentalmente il consenso per la privacy è utile a consentire così possiamo inviarvi documentazioni a riguardo dei webinar insomma che seguite con noi quindi consentite in qualche modo perché è più facile insomma raggiungervi con questa le documentazioni allora buongiorno bentornato Paolo direi che se vuoi puoi già caricare la presentazione a schermo intero così cominciamo a raccontare il tuo tema di fatto che in qualche modo aprirà anche un spunto diciamo con i progettisti collegati oltre 400 visto appunto anche di 420 e vi ringraziamo ovviamente sempre per la partecipazione in questi momenti formativi noi ti sentiamo benissimo ancora no ma di solito ci vuole qualche secondo quindi magari attendiamo il caricamento a volte appunto un sistema come avete visto semplice dal punto di vista della partecipazione ma un po' macchinoso ma a volte anche si perde la connessione non vi preoccupate basta fare immediatamente un refresh e si recupera la linea ora non vediamo la presentazione quindi vediamo un po' di di riattivarla vediamo di rifarlo così io magari ne approfitto anche perché dalla regia di lanciare il pop up di facebook perché anche questo ci serve per raggiungervi più facilmente per i webinar che avremo nel mese di luglio ce ne sono tantissimi quindi se chi ha facebook può magari mettere un mi piace a questo al nostro link di info progetto ripeto in questo modo possiamo comunicare prima possibile comunicare prima possibile raggiungervi sui tanti tantissimi webinar che ci saranno ogni giorno da qui fino diciamo ai primi di agosto insomma staremo in compagnia eccolo qua però la presentazione è visibile adesso quindi Paolo se vuoi puoi partire molto bene buongiorno a tutti sono Paolo Panetto studio di architettura si chiama Exit con sede a Previso insieme a Francesco Lorschi ci occupiamo di architettura e di progettazione di interno agganciandomi a quanto detto a finora devo dire che condivido anche un certo tipo di approccio necessario nel nostro lavoro che è quello del condividere e analizzare subito già in fase iniziale i primi schizzi dei primi idee nei progetti di architettura ed interni quanto più possibile con le figure tecniche che possono essere professionisti quindi ingegneri impiantisti di vario titolo e anche con aziende qualificate questo è necessario per ottenere un certo tipo di risultato e non avere lungo un percorso progettuale già pieno di mille insidie direi tutta una serie di ostacoli cercare di condividere da subito tutte le necessità occupiamo di architettura e di interni le due cose sono collegate e le due cose sono molto legate a tre componenti principali una è il disegno dello spazio che è quanto di più astratto ci possa essere nel nostro lavoro che però è la base e quanto anche è difficile poi comunicarlo ai clienti il disegno della luce è un paradosso quello di parlare del disegno della luce però cercare di farla di dargli una forma attraverso il disegno delle bucature o della luce artificiale i due elementi sono correlati il terzo elemento fondamentale sono i materiali cerchiamo un ideato in un padiglione espositivo a Piove di Soligo in provincia di Treviso cerchiamo un'idea di architettura molto pulita fatta di pochi elementi in cui l'essenza sia proprio esporre il quanto più possibile lo spazio e rendere lo spazio protagonista dell'architettura l'architettura non è solo un oggetto ma anche un contenitore di spazi cerchiamo sempre appunto questo rapporto tra spazio materia materiali e luce in un continuo dialogo tra quello che poi è l'architettura quello che è meramente struttura quello che è come in questo caso una preesistenza e quello che è trasparente quello che è opaco insomma tutto un insieme di elementi necessari poi a far confluire il tutto in un manufatto architettonico di un certo interesse uno dei nostri lavori più recenti è il recupero di un fienile anche in montagna dalle parti di cortina è un progetto di recupero di un fienile esistente che viene ripensato completamente per esigenze abitative in cui però il nuovo va a dialogare in maniera molto forte con il preesistente e l'inserimento di elementi nuovi va a ricercare un dialogo non necessariamente un contrasto con quanto c'era precedentemente quindi cercando anche un certo rispetto però cercando sempre una forte componente di contemporaneità come in quel paviglione recentissimo che l'abbiamo scritto l'anno scorso a Pieve di Sorrigo in cui c'era comunque un dialogo con una preesistenza oppure questa è una casa di campagna avverso oppure sempre attraverso il disegno dello spazio attraverso la definizione di pochi materiali che danno la possibilità di avere un controllo totale del processo in questo caso pochi materiali appunto travertino piano terra la base della scala è quasi un'estrusione del pavimento che va a prendersi i primi gradini c'è uno stacco di 7 cm in corrispondenza del basamento della scala rispetto al resto della scala che poi è anche un mobile insomma una cosa con più facce il legno di olmo che va a chiudere alcune parti della composizione e la struttura anche in questo caso la vista che non viene mai nascosta oppure il rapporto tra quello che c'è dentro e quello che c'è fuori in un'architettura quindi la connessione tra le specificità dell'architettura e quelle dell'architettura per interne ripeto cerchiamo di tenerli uniti dove è possibile e questo è un altro lavoro fatto in montagna ormai questo è un lavoro di uno dei nostri primi lavori a circa 12-13 anni avevamo davanti agli inizi e in questo caso questo dentro e fuori questo rapporto tra la preesistenza e quello che c'è dentro i materiali è diventato e anche la luce ovviamente è diventato un po' un'immagine manifesto quindi il legno di larice consumato dal tempo ingrigito il legno nuovo del serramento la pietra dolomia che è una pietra locale appunto delle dolomiti gli inserimenti in acciaio scuro oppure all'interno di progetti di recupero di appartamenti anni 60 che ovviamente le nostre città stanno facendo i conti con un certo tipo di edilizia che ha un grande potenziale trasformativo non la sto leggendo necessariamente come aspetti negativi però ovviamente sono appartamenti che richiedono una serie di azioni col termine azioni è un termine abbastanza preciso nel senso che abbiamo bisogno di poche azioni per renderli adatti al modo di vivere contemporaneo banalmente si tratta di piccole demolizioni o rifacimenti impianti cercando di ridurre al minimo la complessità impiantistica attraverso pochi segni ad esempio questo è un piccolo recupero di un appartamento treviso in cui è rimasto il pilastro lasciato in cemento a vista che reggeva questa era divisa la zona giorno era già divisa in quattro mini stante è stato riaperto e riabbassato tutto l'appartamento attraverso questo elemento che vedete in alto in cui vengono nascosti gli impianti e il sistema di luci anche il sistema di illuminazione è tutto gestito per ristrazione di fatto l'obiettivo è sempre quello di avere uno spazio a disposizione per l'arredo mi spiego uno spazio neutro fatto di appunto poche azioni adatto ad ospitare qualsiasi tipo di mobile a quel punto in questo caso la cliente ha avuto un'attenzione verso un tipo di mobile ora vi maestrerò questa è una piccola introduzione quattro progetti più o meno in ordine cronologico in cui questi temi sono stati espressi in maniera più chiara e forse anche adatti un po' alla giornata di oggi una casa mogliano in cui appunto questa ricerca dei materiali e della pulizia formale è spessa chiaramente lo studio si è concentrato oltre che nel disegno degli spazi principalmente nel disegno della scala principale che subito dirideva i due ambiti principali della casa quindi i due piani zona giorno al piano terra e le camere lo studio nella parte superiore e ovviamente questo elemento diventa un dispositivo che a noi sul quale a noi premeva lavorare in maniera molto precisa il basamento della scala è una panca con degli elementi in aggetto per segnare i primi gradini che anche in questo caso che è un nostro diciamo motivo di interesse uno stacco di 5 cm in questo caso tra quello che c'è sotto e quello che c'è sopra quasi a segnalare la drammaticità un po' delle due cose questo stacco ovviamente ha uno sport progettuale molto forte nel senso che la scala è una scala autoportante fissata su tre punti quindi è la base in mezzeria e nella parte superiore è un anime in acciaio e poi rivestita in legno e il tamponamento in piccole lame di vetro che rendono ovviamente sicuro il parapetto la definizione dei materiali e la chiarezza formale del gesto progettuale dei materiali è molto importante e anche la definizione dei dei tagli cioè non è solo una fotografia ma è anche una non è solo una bella fotografia ma è anche quello che le persone poi cercano di vivere ogni giorno cioè un certo rigore nel disegno delle parti la sommità della scala invece è diverso questo è il punto di arrivo della scala che vedevamo prima la scala si prende una porzione di panca che sto segnando in questo momento e va a chiudersi con una specificità tavolo che connesse un corridoio che è sullo sfondo dell'immagine e una piccola zona giochi per i figli del cliente in questa parte ed è tutto sorretto da un vetro questi elementi bianchi che vediamo in la fotografia sono della L quindi proprio noi li chiamiamo dietri di spazio cioè proprio degli elementi che servono a definire ambiti spaziali dai qui statti c'è un sistema di illuminazione ma soprattutto mi permette di nascondere tutta la parte impiantistica che non è in vista quindi sistema di raffrescamento e riscaldamento ma soprattutto attraverso questa L mi permette di far confluire tutta la luce che c'è del mattino ad est da questo punto alla parte bassa quindi una specie di sistema per far confluire la luce ecco questa è un'immagine più chiara quindi una grande trasparenza da una parte una grande opacità per nascondere un corridoio io lo chiamo corridoio perché purtroppo non ci sono altri termini per chiarirlo però è un corridoio che ovviamente non vuole essere un corridoio deve essere uno spazio di passaggio ma non un triste conidoio con un afflict classico e la panca di cui parlavo prima che stavolta è una cassa panca di fatto ecco il sistema per convogliare la luce quindi veramente abbiamo cercato di lavorare sulla purezza del gesto progettuale e anche dei materiali e sul contrasto anche nel caso del disegno dei bagni in questa casa abbiamo dato molta attenzione a questi elementi spaziali appunto che contengono l'impiantistica e l'illuminazione in rapporto con i materiali quella era la vasca del bagno del piano superiore questa è la parte del bagno del piano inferiore questa è un'altra casa realizzata due anni fa a Treviso in centro storico in un palazzo degli anni anni 60 quindi un palazzo Treviso è stata una delle città più bombardate d'Italia durante la seconda guerra mondiale quindi sono rimasti molti pezzi bellissimi della città medievale ma in alcune parti di città in contrasto con alcune parti storiche appunto alcuni edifici storici sono stati costruiti dei palazzi anni 50 di una certa bellezza devo dire però ovviamente con caratteristiche molto diverse questo è uno dei casi il cliente olandese aveva un suo gusto molto sofisticato per un certo tipo di interni ricordo che lui lui aveva un ricordo molto bello di aver di aver vissuto in una casa di Bacchema degli anni 50 da bambino in cui c'era un ricordo molto vago c'erano dei grandi pannelli scorrevoli che lo divertivano e su quell'aspetto abbiamo cercato di lavorare anche in questo caso una grande pulizia e apertura poche azioni nascondere attraverso tagli tutta la parte impiantistica anche attraverso dei pannelli i vari ambiti spaziali della casa e soprattutto il grande tema era quello di di cercare di fare un grande open space quindi un grande spazio aperto per sé chiuso da pannelli scorrevoli un po' un omaggio a quel ricordo della casa di Bacchema e attraverso questi pannelli riuscivamo sempre a incorrezzare ambiti di spazio della casa quindi non era un diciamo un tentativo di fare un open space e basta ma di lasciare delle caratteristiche delle stante in un in un open space adesso mi spiegherò un po' meglio questa è un'immagine abbastanza chiara alla fine dell'ampio corridoio questi tre pannelli di un grigio altracite chiaro scorrendo definiscono ogni volta le necessità dello spazio e della sua vita insomma riusciamo ad avere appunto lo studio aperto la camera chiusa il bagno chiuso e viceversa attraverso questi tagli ovviamente lo scorrimento totale o parziale degli elementi permette di illuminare in maniera differente questi spazi ad esempio questa è una vista di una delle camere e attraverso appunto l'apertura totale o parziale avere delle quantità di grigio passate il termine che incorniciano la vista e lo stesso nel bagno anche in questo caso come ho cercato di introdurre all'inizio c'è una grande attenzione al processo progettuale e alle complessità anche impiantistiche tecniche già all'inizio della progettazione questo è l'ultimo progetto che volevo mostrarvi è una casa recente a Overso un centro storico della piccola città in provincia di Treviso un appartamento su due piani molto grande dal punto di vista dei metri quadri ma molto piccolo dal punto di vista degli spazi nel senso che sono tutti spazi irregolari e compressi nel tessuto del centro storico c'erano delle resistenze molto interessanti un sistema di porte scorrevoli già esistente probabilmente già studiato da uno dei primi proprietari dell'appartamento dell'appartamento che si reggeva su un tubo molto pesante in acciaio inox questo tubo è rimasto e su questo poi abbiamo tenuto anche come tema di progetto questa casa è stata studiata per rispondere in modo da rispondere un po' a questi microspatti di cui vi dicevo quasi come un percorso quindi questo ve lo illustrerò come percorso che si fa per arrivare in sommità alle camere questa è la zona di ingresso in cui questi elementi scorrevoli segnano di volta in volta o l'accesso alla piscina a donna pranzo o a antibagno e bagno ci sono tutti i microspatti che si susseguono quando si entra verso la camera questa è la fine del corridoio in cui questa libreria a semicerchio quasi è quasi una freccia che segna l'ingresso e ci dice si sta comunicando di passare verso l'altra stanza l'altra stanza poco a poco si svela questa è la zona più ampia della casa in cui c'è il parto il soggiorno è una zona ribassata che poi cerca una sua chiarezza attraverso l'inserimento di una scala che porterà i piani superiori e alcuni oggetti per la vita normale di tutti i giorni la quotidianità e anche il sistema di illuminazione è molto scano molto chiaro definito da queste barre a led una che è attraverso il soffitto e una attraverso la parte interiore questa è il controcampo dell'immagine dell'ingresso quindi il corridoio la libreria sulla destra la scala pensata in continuità con gli elementi dello spazio è una scala differente un po' diversa da quella che abbiamo visto prima anche in questo caso si è cercato una certa pulizia un certo rigore e anche l'inserimento di un oggetto assolutamente alieno rispetto a un certo tipo di disegno che possiamo fare noi disegniamo l'arredo fisso lo disegniamo noi ma l'inserimento di un mobile storico un armaggio storico tirolese in questo contesto di certo punto assume senso perché una certa pulizia fermale ci permette in qualche modo di accogliere tutto inizio della scala si svella un grande quadro che la proprietaria ha fatto preparare da un artista proprio per la per la sua casa che è posizionato in uno spazio molto apparentemente molto compresso però allo stesso tempo una specie di esplosione verso l'esterno quindi questo era un tentativo poi di rispondere a un certo tipo di contrasto tra spazio e quello che poi è il quadro alla fine della scala si accede alla camera principale completamente disegnata da noi che ha una delle camere più piccole dove c'è un spalco con un altro letto e dove anche il disegno degli elementi fissi fa parte di un disegno generale pensiero generale insomma dello spazio uno dei bagni quello più piccolo del piano superiore e appunto anche in questo caso come nella casa di Treviso c'era una certa continuità di materiali un riferimento continuo a quello che c'è dentro una stanza e quello che c'è esternamente e è la possibilità sempre di inquadrare ambiti spazioli diversi anche in case piccole o molto compresse bene io avrei con questo avrei finito e vi ringrazio intanto ringraziamo a te ovviamente un po' guidato anche nei tuoi progetti volevo farti anche una domanda poi alla luce questi momenti sono anche un po' per consentarvi tra voi progettisti alla luce della situazione che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo un po' con l'emergenza sanitaria le abitazioni le case secondo te in qualche modo avranno ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda la progettazione oppure non cambierà nulla si è parlato sempre di dare comunque adesso maggiore comfort maggiore benessere ai luoghi domestici succederà qualcosa tu hai già percepito qualcosa allora beh sicuramente io credo succederà qualcosa e l'hanno percepito soprattutto le famiglie di fatto cioè chi abita con più persone i single che magari di casa sono riusciti a organizzare il lavoro e tutto l'insieme di cose abitiamo in case tendenzialmente piccole per essere vissute 24 ore su 24 noi ci siamo trovati a una sorta di sfollia di vivere la casa 24 ore su 24 cosa che da 60 anni credo non era mai caduta e quindi è un problema è un problema concreto che si vede che abbiamo vissuto tutti sulla nostra premia la risoluzione di questo problema è o cambiare degli standard nel senso che il mercato immobiliare è basato su standard dimensionali delle stanze in rapporto ai metri quadri di vendita quindi banalmente non posso costruire più metri quadri perché la casa poi rispetto al prezzo sul mercato non è più vendibile e questo è una delle questioni mentre nelle capacità di trasformabilità di una casa è un argomento ovviamente diversa nel senso ci sono potenzialità in certe situazioni degli anni 60 che ho cercato di descrivere in poche parole prima ma secondo me in tutta la fascia dagli anni 90 in poi non c'è e con l'architettura anni 90 con la ristrutturazione di spazi anni 90 ne stiamo stiamo cominciando a fare i conti perché cominciano insomma a passare gli anni però la necessità c'è e secondo me anche le persone hanno capito che c'è un'urgenza da quel punto di vista ovviamente senza fare dicendo proprio tre conti in tasca una famiglia di quattro persone con due figli in età scolare uno a liceo uno alle medie uno alle medie o alle elementari eccetera tra dirette il lavoro e tutte le cose è molto difficile quindi di fatto abbiamo scoperto che in Italia non c'è un edilizia abitativa per quattro persone ma per stare per tornare a casa la sera rilassarsi dormire e tornare al lavoro e lui è riuscito di casa ci voleva purtroppo un'emergenza sanitaria un'epidemia per farci accorgere che purtroppo ci sono delle situazioni che dobbiamo assolutamente cambiare immagino anche luoghi commerciali ma anche le scuole è un'opportunità per voi progettisti di poter in qualche modo incidere maggiormente secondo te può essere una svolta anche per diciamo avere maggiore qualità di progettazione per voi progettisti o non cambierà nulla? no assolutamente assolutamente secondo me c'è già una una tendenza in corso noi siamo abbiamo lavorato in mobilità ridotta secondo me come tutti i cantieri in corso si erano fermati e abbiamo iniziato cose nuove e in questi in quei 20 giorni di pausa sono cambiate proprio delle richieste adesso stiamo lavorando su una struttura alberghiera e una parte della struttura alberghiera non sarà tradizionale ma sarà pensata non dico per i casi di emergenza però con un sistema diverso di approccio allo spazio quindi non tanto come distanziamento non solo come distanziamento ma come autonomia dobbiamo lo sforzo dei progettisti è non rendere questo sterile ma una possibilità adesso che deve essere comunque possibilità di di scambio sociale di relazioni e questo in architettura in genere e anche poi nel disegno degli spazi aperti nel senso che anche quando usciamo dalle nostre case dobbiamo avere degli spazi disponibili ad accogliere le persone è un discorso un po' ampio ma ci si sta già lavorando edilizia scolastica di cui non mi occupo di edilizia scolastica però la vivo per necessità familiari è assolutamente inadeguata a tutto questo quali sono quelle le stesse dove l'ho studiato io l'edilizia scolastica nuova in Italia è poca e vedremo un po' come sarà però le possibilità ci sono sta molto credo nell'intelligenza progettuale non è un piatto che trovi bello che pronto è un po' da vedere allora bene io direi adesso vediamo ecco qua ci hanno raggiunto appunto sia Marco Lovetere che Francesco Fiore che non sarà sicuramente lì in zona per avviarci verso la conclusione state ricevendo numerose complimenti quindi direi che i temi che abbiamo trattato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche scientifico su delle riflessioni appunto dei progetti hanno lasciato il segno quindi Marco in qualche modo ecco Francesco in qualche modo avete dato degli spunti interessanti ai tanti progettisti come vi è sembrato questo diciamo momento interattivo a distanza voi siete spesso abituati a confrontarvi di persona dal vivo un po' con i progettisti è una cosa che manca moltissimo forse ma adesso diciamo abbiamo abbiamo questa occasione insomma è sicuramente un mezzo che in questo periodo comunque ha fatto ridurre la distanza del mondo dei progettisti e noi l'abbiamo utilizzato come ti dicevo prima anche per raggiungere anche la nostra rendita con le sessioni di aggiornamento di formazione comunque questo è più visto l'impossibilità a uscire sul territorio sono utili e apprezzati spero che anche i progettisti che oggi hanno assistito a questo webinar abbiano potuto apprezzare le nostre presentazioni trovare in queste dei punti di riflessione o comunque dei suggerimenti che possono essere utili per il futuro prossimo nei progetti che speriamo arriveranno copiosi se riprende l'economia e quindi magari ci sarà anche occasione di risentirci e di progettare insieme qualche bel lavoro dal punto di vista anche da detteli abbiamo fatto delle riflessioni con Paolo sul fatto che questa situazione emergenziale probabilmente cambierà inevitabilmente gli spazi che viviamo dagli spazi domestici ai luoghi di lavoro ma anche le scuole siete d'accordo anche come azienda siete proiettati su questa occasione un po' che potrebbe capitare cioè quella di riprogettare e quindi essere a fianco dei progettisti assolutamente sì il nostro compito è sempre di essere a fianco dei progettisti e degli architetti e di trovare con loro la soluzione ad hoc in qualsiasi condizione quindi sicuramente in questa condizione di emergenza con questi webinar la facilità di incontro è maggiore quindi eventualmente si può anche fare dei collegamenti one to one quindi discutere del progetto trovare delle soluzioni e poi comunque diciamo che la nostra rete vendita che comunque è operante sul mercato è comunque sempre disponibile quindi anche in questi momenti e anche durante il coronavirus siamo sempre stati attivi il più possibile con i progettisti d'architetti qualora che magari lavoravano solo nell'ambiente ospedaliero e quindi sicuramente sì noi abbiamo avuto modo anche di riferirci durante un'occasione che riguardava la vostra partecipazione ai lavori all'hotel Gallia quel bellissimo albergo di Milano dove avete partecipato in maniera importante quella è un'occasione dove avete in qualche modo dimostrato di poter offrire soluzioni di grandissima qualità sì assolutamente sì perché poi una cosa al cui facciamo veramente prestiamo tantissima attenzione sono i nostri materiali cioè i materiali che offriamo noi sono prodotti nobili sono acerinox ottonici quindi è un materiale che poi nel tempo rimane duraturo cioè non è che è un prodotto che poi dopo qualche anno lo troviamo deteriorato o magari ha cambiato il colore quindi è un prodotto che offre robustezza versatilità e alto design quindi alla fine diciamo del progetto e poi successivamente della messa in opera dei nostri prodotti difficilmente c'è qualcuno che si diciamo che all'hotel Gallia abbiamo unito entrambe le caratteristiche peculiari dei nostri prodotti l'estetica e la funzionalità in alcuni casi i nostri prodotti vengono scelti esclusivamente per l'uno o per l'altro lì invece visto che comunque parliamo di un ambiente luxuri dove era richiesta un'integrazione completa di questi accessori all'interno della palimentazione o in altre situazioni era necessario cercare una soluzione che dal punto di vista estetico si integrasse il più possibile è vero anche che questo aspetto in altre occasioni non è così determinante ma sono determinanti le caratteristiche tecniche perché comunque queste soluzioni arrivano alcune delle soluzioni che vi abbiamo proposto arrivano a garantire un grado IP66 e quindi adatte a certi luoghi dove vengono operati certi tipi di trattamenti sui pavimenti e carrabilità fino a due tonnellate quindi in tante occasioni vengono scelte per le caratteristiche tecniche più che per l'aspetto estetico Hotel Gallia invece ha offerto entrambe abbiamo offerto entrambe le soluzioni le caratteristiche perché comunque sono state anche posizionate in luoghi di passaggio dove si movimentavano carichi importanti vedi il carrello con le valigie o con altri attrezzi che comunque possono essere utili alla manutenzione degli impianti quindi siamo veramente soddisfatti di quell'impianto avete anche realizzato un video dove si possono andare a visionare le installazioni e tutto quello che è stato realizzato insieme al progettista quindi siamo orgogliosi di questa referenza Paolo invece per quanto riguarda il futuro cosa diciamo di addentrarti dal punto di vista progettuale c'è qualcosa in ballo c'è qualche progetto interessante o qualcosa che ti ispira diciamo dal punto di vista creativo a dicembre in epoca pre-covid io e mio socio stavamo discutendo di spingere sulla realtà locale quindi di essere presenti nel territorio con le imprese del territorio gli artigiani del territorio per avere un controllo sulla qualità e sulla mano molto forte ma lo so che va un po' contro un'idea magari più più ampia di fare cose gigantesche eccetera però secondo me è una dimensione da riscoprire poi è stato quel che c'è stato purtroppo e forse questo avvalora un po' quella tendenza nel senso che adesso abbiamo mostrato i lavori anche tendenzialmente piccoli legati all'interno però per arrivare a quello sforzo sono sforzo anche dal punto di vista progettuale ma soprattutto di direzione lavori molto ampio e tutti noi i colleghi ingegneri architetti sappiamo quanto è dispendiosa in termini di tempo e di responsabilità soprattutto la direzione lavori quindi da quel punto di vista non era un passo indietro ma era una presa di responsabilità di un'altra e questa è la prima tendenza la seconda è che oltre a tutto quell'aspetto legato alla domenica agli interni e alle case da un po' di tempo stiamo lavorando su una situazione più ampia uno è un recupero tra l'altro 50 metri dal mio studio guardando la fine a qualche secondo di un palazzo del 500 a Treviso molto internamente un palazzo vincolato internamente negli anni appunto della guerra è stato molto manomesso ed è un'esperienza molto bella diventerà attraverso anche un committente illuminato un'edificio molto interessante di cui vi parlerò a marzo più o meno e adesso stiamo lavorando anche su un hotel un hotel un po' particolare un po' più con un grande audioautonomia maggiore rispetto all'hotel tradizionale diviso in tre blocchi ognuno con la sua caratteristica uno più storico uno intermedio un edificio nuovo e poi lavoriamo nel design insomma cerchiamo di tenere aperto più forte l'entusiasmo l'entusiasmo diciamo che non vi manca da quel suo punto di vista guarda se manca quello va benissimo io ti ringrazio ringrazio architetto Paolo Panetto per essere stato con noi ovviamente ringrazio Francesco Fiore e Marco Lovettere per averci guidato ripeto nel mondo Bob Eterman ripetiamo che vi possono contattare i progettisti collegati sono ancora più di 400 per qualsiasi soluzione per qualsiasi informazione insomma hanno i vostri riferimenti grazie ancora complimenti ovviamente da parte di tutti grazie a voi grazie a voi ci pato noi ovviamente ringraziamo tutti i progettisti che hanno partecipato a questo webinar vi ricordo che ci sono tante altre occasioni per seguirci andate su fad.infoprogetto.it vi troverete tutti i link per potervi iscrivere ci sono anche i link dei webinar passati insomma con tutti i temi che potete in qualche modo rivedere approfondire siamo alla fine grazie ancora e ovviamente vista l'ora buon appetito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.